E' stato decapitato l'ostaggio francese Hervé Gurdel, rapito domenica a est di Algeri. Lo testimonia un filmato dell'esecuzione diffuso dai terroristi e intitolato Messaggio di sangue per il governo francese. Il gruppo Jundal Khilafa, legato all'ISIL, aveva rivendicato con un video il rapimento della guida francese, 55 anni, avvenuto a Tisiwazu in Kabilia, minacciando di ucciderlo entro 24 ore se la Francia non avesse fermato i raid contro i jihadisti dello Stato Islamico. Grazie a tutti.